Fiorentina contro Empoli la prima semifinale del campionato Under 17 che vince a fronte a Roma Juventus venerdì a partire dalle 19 prova a imbucare pallone recuperato subito in verticale a cercare Monaco attaccato da Sturli che non lo tiene, Monaco lo punta scappa sul destro, è passato Monaco con il destro e avanti Lempolin contro Tempo Dolphy si è stappato il match, l'ha sbloccato Monaco bravo ad andare nell'uno contro uno a spostare il pallone ad incrociare per il gol dell'1-0 Cheita scappa via, punta Monaco che lo stende, calcio di rigore per la Fiorentina in genuità da parte di Monaco pronto ad andare Bonanno col destro all'angolino non si prende mai Versari va dalla parte sbagliata la pareggiata la Fiorentina Palla larga Bagordo va giù poi si rialza dentro a cercare Campaniello passa Campaniello zona tiro in buca invece si gira Rossetti e Dolfi dice di no e poi riesce ad allontanare la Fiorentina Palla in verticale prova a ripartire la Fiorentina con Ciacci attaccato da Orlandi che è già monito occhio perché giallo più giallo vuol dire rosso Eppoli in dieci espulso Orlandi Uchi non c'è fallo allora con il destro Majorana al minuto 93 non trova la porta si va ai supplementari occhio ma l'inserimento ma parte Riva Gordo non può calciare si ferma all'indietro Menconi la sistema Menconi con il destro Menconi 2-1 Empoli con l'uomo in meno va sul più uno l'Empoli con Menconi gol fantastico posizione regolare Campaniello Cheetah prova a fermarlo non c'è fallo allora Campaniello in uno contro uno con Cheetah va sul sinistro Campaniello è passato Campaniello la chiude l'Empoli al minuto 123 3-1 vince l'Empoli l'Empoli è la prima finalista del campionato under 17 non c'è più tempo vince l'Empoli 3-1 non c'è più tempo ma c'è più tempo ma c'è più tempo Grazie a tutti.